Allenamento per gambe e glutei con cardio senza salti. Iniziamo con un blocco in piedi di tonificazione con cardio, poi scendiamo a terra con un blocco di esercizi mirati per la tonificazione di gambe e glutei. Iniziamo! Ok, iniziamo! Step touch, solleva bene i piedi da terra, prendi un buon ritmo, destra, sinistra, 10 secondi, muovi sia gambe che braccia, scaldiamo bene, 5, 4, 3, 2, 1, cambia, calciata lenta ai glutei, 20 secondi, porta i glutei verso i talloni, sincronizza, dai ritmo al movimento, test, sinistra, scaldiamo bene sia la parte alta che la parte bassa, cambiamo, skip alto, incrociato, gambe leggermente divaricata, gambe leggermente divaricate, tocca le ginocchia con le mani, vai, sali, sali, inizia a respirare, 5, 4, 3, 2, 1, cambio veloce, vai, skip, incrociato, andiamo a incrociare bene le gambe, gambe leggermente divaricate, tocca le ginocchia con le mani, vai, vai, skip incrociato, velocità, 3, 2, 1, cambiamo, discesa sui fianchi, scaldiamo bene anche la zona centrale, addome, mani lunghi i fianchi, scendi oltre il ginocchio, scendi lentamente a destra e a sinistra, il collo lo manteniamo fermo, 3, 2, 1, ok, gambe larghezza e bacino e apri lentamente la gamba sinistra, mani sui fianchi per aumentare la stabilità e l'equilibrio, l'altra gamba in blocco, alziamo e scendiamo piano piano, controllo il movimento, 3, 2, 1, cambio, sempre posizione di mezzo squat e spinge la gamba destra, vai, non andare veloce, mantieni il ritmo, utilizza le braccia nel movimento, 10 secondi, scendi mezzo squat e slancio, 5, 4, 3, 2, 1, cambiamo, posizione di mezzo squat sempre, spingiamo sull'altra gamba, mantieni il ritmo, braccia che aiutano il movimento centrale, giù, salgo, spingo, 5, 4, 3, 2, 1, cambia gamba, apertura laterale, gamba destra, gambe a larghezza bacino, apri lentamente la destra, non salire troppo con la gamba, mani sui fianchi, l'altra gamba in blocco, salgo e scendo, 5, 4, 3, 2, 1, cambiamo, step touch, solleva bene i piedi da terra, prendi un buon ritmo, preparati per lo squat, vai, sincronizza anche le braccia, su, inizia la respirazione naso e bocca, vai, vai, 3, 2, 1, via, squat, 20 secondi, ginocchio che non supera la punta del piede e bacino arretrato, cerca di scendere col bacino fino alla linea del ginocchio, utilizza le braccia nel movimento, respirazione, lavoriamo gambe glutei, vai, 3, 2, 1, cambio, skip incrociato, gambe leggermente divaricate, tocca le ginocchia con le mani, sincronizza il movimento, separa bene il movimento, mantieni il ritmo, respirazione attiva, 5, 4, 3, 2, 1, recupera, 10 secondi di recupero attivo, riprendiamo, 3, 2, 1, ginocchio su, andiamo col destro, piccolo passo indietro con la destra, scendi e risali con il ginocchio, addome contratto, corpo leggermente inclinato in avanti, sincronizza il movimento con le braccia, sali, 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 mantieni il ritmo, 3, 2, 1, cambio, skip e doppio calcio, vai, sali, sali, calcio, calcio, coordinazione, velocità, ginocchi alte e due calci frontali, 1, 2, ginocchio, ginocchio, calcio, calcio, 3, 2, 1, ok, recupero attivo, recupera, riprendi il fiato, ora ginocchio su gamba sinistra, piccolo passo indietro con la sinistra, scendi e risali con il ginocchio, addome contratto, gamba di appoggio leggermente piegata, sincronizza il movimento con le braccia, 10 secondi, sali, 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 mantieni il ritmo, 5, 4, 3, 2, 1, ok, recupera 10 secondi, ripartiamo con l'affondo indietro, affondo indietro, alterna destra e sinistra, scarica il peso del corpo al centro del movimento, mantieni l'equilibrio utilizzando le braccia, respirazione attiva, questo esercizio lavora gambe e glutei, 5, 4, 3, 2, 1, via, solo gamba sinistra in avanti, facciamo un bello slancio, saliamo, cerca di toccare la punta del piede con la mano, vai, 2 passi indietro, risalgo, tocco, risalgo, tocco, 5, 4, 3, 2, 1, ok, recupera, ripartiamo con il passo laterale su mezzo squat, respira, va in posizione, posizione di mezzo squat, apri e chiudi, mantieni il ritmo, bacino basso, addome contratto, 10 secondi, non ti fermare, 5, 4, 3, 2, 1, via, slancio solo gamba destra in avanti, cerca di toccare la punta del piede con la mano, sali, tocca, sali, tocca, sincronizza il movimento con le braccia, respirazione, naso bocca, 5, 4, 3, 2, 1, ok, pausa, recuperiamo, 20 secondi, riprendiamo fiato, ora aumentiamo i tempi di lavoro, lavoriamo 30 secondi, ripartiamo con l'affondo indietro incrociato, 5, 4, 3, 2, 1, ok, riprendiamo, affondo indietro incrociato, affondo capoera, il ginocchio che va indietro è in linea con il piede dell'altra gamba, massima precisione e ritmo costante, usa le braccia per aumentare la stabilità, respirazione attiva, incrocia, scendi, incrocia, scendi, massimo stimolo gambe e glutei, 3, 2, 1, cambio, gomito destro e ginocchio sinistro, chiudi il corpo, andiamo in torsione, incrocia, incrocia, cerca di toccare ginocchio e gomito, 5, 4, 3, 2, 1, ok, recupera, 10 secondi, ripartiamo con squat e doppio calcio, 3, 2, 1, via, squat, doppio calcio, ritmo sostenuto, scendi bene in squat, bacino a retratto e ginocchio che non supera la punta del piede, vai giù, braccia in avanti, risali, 1, 2, giù, 1, 2, mantieni il ritmo, 10 secondi, resisti, non ti fermare, 5, 4, 3, 2, 1, ok, torsione gomito ginocchio, dall'altro lato, gomito sinistro e ginocchio destro, fuori l'aria quando va in chiusura, butta fuori l'aria, recupera in questo esercizio, vai, vai, respira bene, 3, 2, 1, recupero, 10 secondi, ora passiamo alla fondo laterale sul posto, 5, 4, 3, 2, 1, vai, gambe oltre all'ampiezza dei fianchi, scendi con il bacino, scendi prima da un lato e poi dall'altro, elasticità, precisione, movimento, lavoriamo gambe, glutei e anche interno coscia, apri le punte, mantieni il ritmo, bacino sta su, testa dritta, non ti fermare, allunga bene la gamba, destra, sinistra, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, passo incrociato all'indietro, vai, vai, porta le braccia in avanti per non perdere l'equilibrio, non esagerare con la rotazione del tronco, scendi e allunga, scendi e allunga, 5, 4, 3, 2, 1, ok, recupera, 10 secondi attivi di recupero, respira, ora molleggio sullo squat, andiamo in posizione, scendiamo, posizione di mezzo squat, molleggia, ginocchio che non supera la punta del piede, non scendere troppo, braccia in avanti per la stabilità, testa dritta, guarda in avanti, spingi giù, spingi giù, lavoriamo gambe, glutei, vai, resisti, resisti, qua inizia a bruciare, resisti, 5, 4, 3, 2, 1, v-step, passo diagonale con la gamba sinistra, passo diagonale con la gamba destra, torna indietro e ripeti il movimento, 1, 2, 1, 2, 1, 2, utilizza le braccia nel movimento, sincronizza, movimento pulito, 5, 4, 3, 2, 1, recupera, respira, 5 secondi, ripartiamo, squat e calcio laterale, squat, vai, e calcio laterale, non andare veloce, bilancia bene il peso del corpo quando dai il calcio, scendo, equilibrio, calcio, scendo, equilibrio, calcio, utilizza le braccia per la stabilità e l'equilibrio, respirazione attiva, non fare l'esercizio in apnea, vai, e calcio, scendi, e calcio, 3, 2, 1, cambia, mani dietro la testa, ginocchio al gomito opposto e doppio slancio, fuori l'aria durante la torsione, sincronizza bene i due movimenti, cerca di toccare ginocchio e gomito, 1, 2, 1, 2, mantieni il ritmo, vai, ok, pausa, ora passiamo a un breve blocco cardio senza pause, aumentiamo l'intensità, 15 secondi e ripartiamo con lo skip incrociato, è molto importante la respirazione, naso, bocca, respirazione sempre attiva, 3, 2, 1, andiamo, skip incrociato, gambe leggermente divaricate e tocca le ginocchia con le mani, vai, 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 mantieni il ritmo, non ti fermare, respira, sincronizza bene i movimenti gambe e braccia, 3, 2, 1, vai, V-step, passo diagonale con la gamba sinistra, passo diagonale con la gamba destra, torna indietro e ricomincia, dietro, avanti, dietro, avanti, sincronizza anche il movimento gambe e braccia, respira, 5, 4, 3, 2, 1, ok, step touch, solleva bene i piedi da terra, prendi un buon ritmo, approfitta per respirare, approfitta per riprendere il fiato, sincronizza braccia, gambe, prendi un buon ritmo, 5, 4, 3, 2, 1, vai, piccolo passo indietro con la testa, scendi e risali con il ginocchio, addome contratto, corpo inclinato, leggermente in avanti, vai, 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 mantieni il ritmo, mantieni il ritmo, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, ancora skip incrociato, gambe leggermente divaricate, mantieni il ritmo, resisti, non ti fermare, respira bene se non vai in affanno, tocca le ginocchia con le mani, sali, 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 3, 2, 1, ok, ginocchio sul sinistro, piccolo passo indietro con la sinistra, scendi e risali con il ginocchio, addome contratto, gamba di appoggio leggermente piegata, sincronizza braccia e gambe, non ti fermare, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, 3 torsioni e un pugno, vai, posizione di mezzo squat, torsione, pugno, massima intensità, mantieni il ritmo, vai, vai, respira, non lavorare in apnea, velocità, torsione, pugno, torsione, pugno, 3, 2, 1, cambio veloce, skip e doppio calcio, vai, calcio, calcio, sali, sali, calcio, calcio, ginocchio, ginocchio, coordinazione, velocità, ginocchia alte e due calci frontali, 5, 4, 3, 2, 1, cambio veloce, step touch, respira, passi laterali, respira, approfitta per recuperare, mantieni il ritmo, sincronizza le braccia, 5, 4, 3, 2, 1, mezzo squat, pugni veloci, vai, pam, 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 accelera subito il movimento, mantieni il ritmo veloce, pugni veloci, vai, vai, mantieni, respira, posizione di mezzo squat, non ti fermare, 5, 4, 3, 2, 1, ok, pausa, prendi il tappetino, ora passiamo ad un blocco di esercizi mirati per le gambe e glutei, recupera, 10 secondi e ripartiamo con slanci da terra con piegamento ginocchio, gamba destra, 5, 4, 3, 2, 1, ok, slancia la gamba destra, porta il tallone verso il gluteo, devi sentire la tensione sul gluteo, non andare veloce, movimento lento, controllato, sia in salita che in discesa, 5, 4, 3, 2, 1, cambiamo la gamba, ora slancio con la gamba sinistra, cambiamo la gamba, portiamo il tallone verso il gluteo, contrai il gluteo quando sali, movimento lento, controllato, vai, 5, 4, 3, 2, 1, ok, recupera e posizionati schiena a terra, ci giriamo, 5, 4, 3, 2, 1, ponte da terra con gamba destra sollevata, attiviamo il gluteo, vai col ponte, gamba sollevata, gamba destra sollevata e sali con il bacino, glutei contratti, sali, sali, butta fuori l'aria, 3, 2, 1, cambia, mani sempre lungo i fianchi, gamba sinistra sollevata, porta sul bacino, attiviamo i glutei, quando sali contrai il gluteo e butta fuori l'aria, vai, sali, contrai e butta fuori l'aria, 5, 4, 3, 2, 1, ok, recupera, ci posizioniamo in quadrupedia, 4 zampe, 3, 2, 1, slancia la gamba destra, poi la sinistra, separe i due movimenti, non inarcare troppo la schiena, mantieni il ritmo, appoggia bene le braccia, slancia e scendi, movimento lento, controllato, 3, 2, 1, recupera, la schiena, ci posizioniamo in schiena a terra, ci giriamo, 3, 2, 1, ponte da terra, il ponte classico, glutei contratti, movimento lento, controllato, sali bene con il bacino, salgo col bacino e stringo i glutei e scendo, respirazione attiva, non ti fermare, 5, 4, 3, 2, 1, recupera 10 secondi, ci posizioniamo a 4 zampe, 3, 2, 1, apertura laterale gamba sinistra, gomito destro in appoggio e apri lateralmente la gamba sinistra, gamba 90 gradi, non sbilanciarti verso destra, appoggia bene le braccia, 5, 4, 3, 2, 1, recupera, cambiamo lato, con l'altra gamba, 3, 2, 1, non andare veloce, controlla sia la spinta che il ritorno, movimento lento, controllato, isoliamo il muscolo del gluteo, vai, 10 secondi, respira, non lavorare in apnea, 5, 4, 3, 2, 1, togli il tappetino, continuiamo con un blocco di tonificazione in piedi, ripartiamo con lo squat, respira bene, riprendi fiato, sciogli le gambe, 5, 4, 3, 2, 1, riprendiamo solo squat, 20 secondi, ginocchio che non supera la punta del piede, bacino arretrato, cerca di scendere col bacino fino alla linea del ginocchio, vai, 5, 4, 3, 2, 1, ok, recupera, ora ripassiamo a squat e pugno incrociato, quindi andremo a lavorare gambe, glutei e spingiamo anche sulle braccia, 5, 4, 3, 2, 1, vai, uno squat e un pugno incrociato, squat e pugno a destra, squat e pugno a sinistra, mantieni il ritmo, utilizza le braccia, scendi, risali, pugno, scendi, risali, pugno, nel momento del pugno butti fuori l'aria, 3, 2, 1, ok, recupera, ora passiamo passo laterale sul mezzo squat, respira, riprendi fiato, 5, 4, 3, 2, 1, passo laterale su mezzo squat, posizione di mezzo squat, apri e chiudi, mantieni il ritmo, bacino basso, addome contratto, mani in avanti per stabilità e equilibrio, 5, 4, 3, 2, 1, recupera, ora passiamo allo spostamento laterale, riprendi fiato, spostamento laterale, gamba destra, 5, 4, 3, 2, 1, vai, movimento preciso, controllato, tieni le braccia in avanti per mantenere l'equilibrio, la stabilità, sincronizza il movimento, spostamento laterale verso destra, la gamba sinistra si allunga completamente, 5, 4, 3, 2, 1, recupera, andiamo in posizione per fare apertura laterale dall'altro lato, 5, 4, 3, 2, 1, vai, a sinistra, stesso esercizio di prima, passo ampio, spingi bene con la gamba destra per tornare in posizione, la gamba sinistra che si allunga completamente, vai, braccia in avanti per stabilità e equilibrio, mantieni attiva la respirazione, 3, 2, 1, recupera, continuiamo con l'affondo laterale sul posto, 10 secondi, respira, 5, 4, 3, 2, 1, affondo laterale sul posto, vai, gambe oltre l'ampiezza dei fianchi, allarghiamo le punte per solicitare anche l'interno coscia, scendi con il bacino, scendi prima a destra e poi a sinistra, elasticità, precisione nei movimenti, 3, 2, 1, ok, recupera, l'ultimo esercizio, poi andiamo in pausa, affondo indietro, alternato, recupera, respira, 5, 4, 3, 2, 1, alterna destra e sinistra, vai, scarica il peso del corpo al centro del movimento, mantieni gli addominali contratti, testa dritta, movimento preciso, concentrati, controllato, braccia in avanti per stabilità e equilibrio, 3, 2, 1, ok, pausa, recupera, ora qualche minuto di stretching, ci rilassiamo e terminiamo il tuo workout, 10 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, stretching, gambe divaricate, spira e porta sulle braccia, fuori l'aria durante la discesa, rallentiamo i battiti, recuperiamo, riprendiamo fiato, sali, prendi aria, blocco e butto fuori, 3, 2, 1, ok, cambio, allungamento, fianco e distensione, braccio destro, gambe leggermente divaricate, mano sul fianco sinistro e allungati lateralmente, allunghiamo il fianco destro, braccio destro teso, 4, 3, 2, 1, cambia lato, allungamento fianco e distensione, braccio sinistro, mano sul fianco destro e allungati lateralmente, allunghiamo il fianco sinistro, braccio sinistro teso sopra la testa, 3, 2, 1, stretching gamba destra, prendi con la mano il piede destro e tieni la schiena dritta, resti in equilibrio, respirazione sempre attiva, utilizza il braccio come stabilità e equilibrio, 3, 2, 1, ok, cambia gamba, sciogli la gamba, prendi il piede sinistro, non sbilanciarti in avanti, controlla la tua posizione, utilizza il braccio per migliorare la tua stabilità, respira, 5, 4, 3, 2, 1, ora gambe divaricate, posizione di mezzo squat, mobilizzazione della colonna, prendi aria, inarca la schiena, fuori l'aria e crea una curva con la colonna, vai, 5, 4, 3, 2, 1, stretching, quadricipide a terra destra, vai, scendi a terra, gamba destra dietro, ginocchio e colo del piede in appoggio, mantieni la posizione, mani a terra o sulla coscia, 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato, gamba sinistra indietro, ginocchio e colo del piede in appoggio, resti in posizione, respirazione attiva, appoggiati bene, trova la posizione e mantieni l'allungamento, 3, 2, 1, sali in piedi, gambe divaricate e scendi frontalmente, facciamo una bella divaricata frontale, appoggia le mani a terra o alle caviglie, scarica le tensioni, chiudi gli occhi, respira, 5, 4, 3, 2, 1, resta in posizione, spostati verso l'alto, gamba destra, prendi la gamba e rimani in posizione, le due braccia e la testa sono in linea con la gamba, mantieni, mantieni, 5, 4, 3, 2, 1, ok, lentamente spostati piano piano verso sinistra, mani al piede o alla caviglia, resta in posizione, respira, 5, 4, 3, 2, 1, il tuo stretching è finito, il tuo allenamento è finito, se ti è piaciuto condividi con i tuoi amici, al prossimo allenamento!